ciao a tutti ragazzi benvenuti nuovamente da jamsandro oggi siamo tornati con l'appuntamento dell'uno contro uno quest'oggi l'ospite speciale il capitano parole povere il capitano nicaldan ciao nicaldan ciao a tutti ragazzi è sempre un piacere stare insieme a voi e al super giocatore sandro piacere mio piacere mio nicola e ragazzuoli come sempre non vi rubo altro tempo ci vediamo alla scelta delle squadre e poi alla partita allora la torta ho preso il paris contro simone lu chi prendi ma non so sinceramente vogliamo provare un po di un city ma io con le alma rida allora va bene che ne pensi di questa demo nicola che ne pensi è un gioco abbastanza fluido e via un po manterrà le promesse verrà il gioco ufficiale speriamo 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 bene proviamo un contenimento facciamo tutte le prove del caso allora mettiamo un po così mettiamo equilibrata l'ampiezza l'alziamo un po ma siamo questo le istruzioni riscono mi sa che ho sbagliato a metterlo qui ma questo chi è no? io metto ma mares 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 in questo gioco voglio dire il gioco mi amore? mamma mia mares è clamoroso è il giocatore tuo mares se devo dire già io hai fatto tre fila a caso saltavano per stare con i bigli eh mi cantano skillatore a caso attenzione Io sono prontissimo La cosa buona di Real Madrid Vabbè ma tu sei sempre stato un po' Macchinoso Però porteranno i suoi frutti Questa lentezza nelle tattiche Conoscendoti E' presto per portare i frutti Allora Vai Siamo pronti In bocca al lupo In bocca al lupo Sandri Vacci piano mi raccomando Mi fa fa figuracce Sei tu lo skillomere Io vado gli difesa e controviede Mi raccomando Vecchio stampo Tra partoni 4-4-2 e ci abbracciamo E ci abbracciamo Ma però ci vorrebbe un Johnny Che mi fa la telecronaca Eh Johnny è portato per fare questo Mamma mia Salutone a Johnny e la furia Johnny deve portare in pad E inizia a fare Attenzione Prova a buggare Ma chi era quello sul palo? Mendy Proprio lui Penso di sì In posta adesso compa Compa lì mi sembra forte forte a questo gioco Esatto Molto fisico Poi c'ha pure un po' di velocità Sì Regge l'urto con i giocatori più forti E' buono 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 Sì è vero È vero L'ho notato anch'io O da Mendy Sempre il solito pippone Eh questo invece è fortissimo Eh questo è Dio Sannei Sannei penso che farà male a tanti nelle weekend league Tanta gente che soffrirà Sì no Sannei l'hanno fatto veramente Com'è giusto che sia forte Cioè è veramente forte Solo quel matto della natura della Germania Voglio andare a convocarlo Per il mondiale Ma vabbè quello Lasciamo perdere Attenzione qua Unicadda scatenato No male male Unicadda Tempo rigi adesso Aspetta di adesso Di Sannei Occhio Mamma mia Meno male che Dei Ammarin Dovise a comprare il portiere Se no Era grigia La mia spola ha deciso di giocare altissima È giusto così È giusto così Mamma mia Ma che cosa ha preso Che cosa ha parato Ma chi è Courtois No Come ha fatto a fare quella valata Non ho idea Veramente strana Animazione strana ha fatto Tanta roba Adesso Si destreccia In linea del rigore Attenzione ma Courtois È un Hyper Zenit un po' più alto Mamma mia Questo Nikaldan È proprio Ragazzi Attenzione a Nikaldan È uno skill Ma molto prepotente Come giocatore Marezzo Marezzo Vediamo un po' Cosa ci inventa Niente Nikaldan umile Attenzione Skill a caso Attenzione Skill a caso Attenzione Ma Attenzione che Marezzo è fortissimo Stimare a caso Impressionante Marezzo Io non ho Bivinione Ideia di quello Che stavo facendo Ragazzi Non stavo Mentando le cose Qua ci Dobbiamo imporre Il nostro gioco Sennò Sarà un bombardamento Alla Nikaldan Stavo c'è che Dimentica La palla Adesso Mi vanno in difficoltà Sennò Facciamo questo giro Gran chiusura Eh Lo abbiamo chiuso No Attenzione Gioca a Pess Nikaldan Eh Questa è una giocata Di Pess Ragazzi Che peccato Buona Tempora Sicuramente Inizio 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 89 di over Inizio 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 Siamo stati un attimo Scopetti E tanto Ti ha punito Ti ha punito Con la tua stessa tattica Difesa e contropiede Nikaldan Eh Sì 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 Mi sembra Massimo registrare La fase di ventina Queste tattiche Non vanno bene E cavolo Stanno Difensori Sta meglio Via Vai 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 Tanta Tanta roba Vai Marcello Facci salire Anche Asensio Non è male Eh Senzio Buono Buono Ando il giocatore Attenzione Asensio Ma Papa L'incrocio Tira delle bombe Asensio Esagerate Stai imparando A cacciare botte Dalla sesione Ci hanno levato Il doppio guardato Ragazzi Qua Quest'anno Sarà veramente Dura Di imparare Tutto Alla fine Perché anche Il gioco Sarà molto Più lento Soprattutto Sul pro club Nikola Sarà un bel problema Perché io vedo Dei cross Veramente strani Ok Sul pro club Nikaldan 2.302 E ci abbracciamo E ci abbracciamo Nikaldan Chiodo Sandro Mettere la valla In testa E via Sì Facciamo proprio Una cosa Tranquilla Tutti i lancioni Ci abbracciamo Botate E essere compatti Dietro Ragazzi A vostro Johnny Che invita la difesa Senti Nikaldan Parole sagge Parole sagge Parole sagge Di Nikaldan Attenzione però Isco Uh Qua Sando cerca La goleada Ci disegniamo Sarà difficile Sarà difficile Attenzione No Voglio di rovesciare Però Uh Ma è una PES Questo Nikola Questo è un triangolo Due linee in più Due linee in su E abbassi tanto Di schiacci E l'avversario Poi non ti fa Soglie Il primo Tanta roba da studiare Tanta roba da studiare Tanta roba Lo sanno ci mettiamo col taccuino Prendiamo appunti Attenzione però Mi stai chiudendo un po' Uh Ma quello sembrava Un bitch saucer Attenzione qua Karim Vuole mettere la sua firma Ma Non da Mendy Attento Avanti e compagni Hanno fatto una buona chisura Non passa Grande Si sbagliare Adesso E adesso Sono messi dove i pacchetti Eh Buono Pensa che lo conservo Che magari salve di valore Lo conservo Sicuramente Saperà Mi è uscito Manda andata Se ti può far felice Siamo lì Comunque Tanta roba Sì 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 Roba mia Roba mia Roba mia No non è vero Attenzione E' finita Finisce qui Hai maturato bene Cavolo Bella partita Nicald Vabbè c'è lo shareplay di mezzo Non me la posso tirare più di tanto E allora ragazzuoli Io ringrazio Nicola Nicald Per la compagnia Per la partita E In descrizione Vi lasciamo Il nostro canale Twitch Dove andremo a fare delle live Insomma Questi giorni Che esce il gioco Proveremo ProClub Un po' tutte le modalità Insomma Quello Che c'è andrà di fare E Io vi saluto Grazie per la visualizzazione Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao ragazzi